Il meteo ci ha graziato oggi, abbiamo trovato un momento dove il cielo era di nastro sgombro da nuvole, volevamo con tutto il cuore esibirci oggi ed è stato bello poterlo fare con un programma acrobatico completo. Bari ogni volta è un'emozione incredibile e lo è non soltanto per le tradizioni di questa festività, ma lo è per l'accoglienza della gente, un pubblico incredibile. Come si diventa Frecce Tricolori? Per diventare un pilota delle Frecce Tricolori il percorso è molto lungo, l'obiettivo che bisogna porsi prima di tutto è quello di diventare un ufficiale dell'Aeronautica Militare, poi diventare un pilota militare e poi un domani pochi piloti che avranno i requisiti potranno provare la selezione per entrare nel reparto delle Frecce Tricolori. Ogni anno entrano soltanto uno o due piloti. Arriva il calore della gente lassù quando siete a desibirvi? A dire il vero, durante l'esibizione la concentrazione è talmente alta che non si ha tempo neanche di guardare a terra, di vedere quanta gente c'è a guardarti. Si riesce a percepire con la coda dell'occhio la folla. Al termine dell'esibizione, dopo l'ultima manovra, dopo il tricolore steso durante la nostra alona, quando tutto quanto è andato bene c'è un momento di relax in cui si è veramente soddisfatti di quello che si è fatto e andando via, guardando il pubblico, ci si riempie il cuore. La Puglia ha una relazione molto intensa con l'Arma Azzurra, perché qui ci sono scuole, ci sono stormi. Qual è il rapporto e qual è il futuro? Il rapporto con la Puglia e l'Arma Unitario è un rapporto che va indietro nel tempo. Non le posso dire che sono ovviamente fiero e orgoglioso che una delle prime manifestazioni della pattuglia climatica sia stata fatta qui a Bari. Bari si merita questo e altro. Poi in questo periodo ci sono le festeggiamenti di San Nicola, per cui mai come ora potevamo rinunciare a questa occasione. E vedere tutta questa gente oggi sul lungomare per noi è stata una cosa strepitosa. È un modo per noi per dire grazie alla Puglia, grazie ai suoi cittadini e grazie a tutto il proprio italiano che ha aspettato questi due anni per rivederci. Lasciatemi ringraziare tutto il mio personale, sia quelli della pattuglia, sia la linea elicotteri che ha fatto uno show stupendo, ma non solo loro, ma tutti gli uomini e donne che lavorano anche in Puglia. Ad Amendola, sugli F-35 e sui velivoli non pilotati e a Gioia del Colle con gli Aerofighter. In questo momento loro stanno difendendo i confini della Nato per quella crisi che di fatto speriamo finisca presto. Abbiamo visto gli Aerofighter, gli F-35, ma poi una cosa bellissima è rivedere il tricolore in aria. La bandiera tricolore è il motivo ispiratore di tutte le nostre decisioni. Ogni volta che io devo prendere una decisione guardo la bandiera che non è il mio ufficio. È la mia fonte di ispirazione primaria e tutto quello che può portare lustro ai nostri colori per me è fede. E quindi io devo necessariamente assicurare che ciò sia assicurato sempre in ogni momento e anche nelle mie scelte, che in questo momento vi posso assicurare non sono proprio semplici. La bandiera è il mio conforto completo. Si torna a festeggiare San Nicola, si torna in presenza dopo un lungo periodo. Ci è mancata tantissimo questa parentesi di spenteratezza in questo periodo difficile. Che emozione rivedere il tricolore nel cielo di Bari? Per me è stata un'emozione vedere il tricolore, quella musica, la voce di Pavarotti e migliaia di persone sul lungomare. Ho pensato da questa terrazza ben tornate frecce tricolori ma anche ben tornata a Bari. Sembra davvero di essere tornati nel 2019 quando migliaia e migliaia di persone come oggi raggiunsero il lungomare. L'abbiamo fatto anche oggi, torniamo a stare insieme, torniamo a essere una comunità, torniamo ad apprezzare gesti semplici che magari avevamo sottovalutato nel passato. Oggi dopo questi due anni di paura torniamo davvero ad apprezzare cose semplici che però ci sono mancate. È un bel periodo per la città di Bari in occasione dei festeggiamenti del nostro santo patrono. Tutto sta andando per il verso giusto, il corteo è andato benissimo, è piaciuto. La città l'hanno ripulita subito. Insomma è una prova di maturità di questa popolazione? Sì, è una prova di una città che è cresciuta e che si può considerare davvero una capitale europea nel Mediterraneo. Lo siamo da tanto tempo ormai, per fortuna cominciamo ad apprezzarla anche noi insieme a tante persone che ci vengono a visitare da più parti del mondo.